Riga, buoni tutti, ho trovato il programma per l'eccellenza, il mio grosso grasso matrimonio gipsi. Praticamente c'è sta questa che ci avrà avuto 14 anni e fa non vedo l'ora di vivere il giorno più bello della mia vita, sposarmi, vivere in una roulotte, fare la casalinga, cutire figli e pensare a mio marito. Siamo nel 2020! Cosa cazzo sto guardando? Riga, ci stanno ste ragazzine con le madri che si fanno a fare le unghie che parano piste d'atterraggio per ieri, se hanno tipo i capelli che parano tre checchi con l'extension. Questa che fa un giorno sogno di sposarmi e avere una roulotte tutta mia. E allora che quando si sposano c'hanno stabili che non passano dalle porte, è sempre una pora stronza che lo fa per tutta sta comunità di imbecilli, son draccelli si chiama, tipo. Poi una certa una fa guarda il mio abito, si accende, l'abito c'è per le luci, allora va a fare lampadario per interni, non fa la mogliettina. Allora questi matrimoni non si sa chi le pia da chi, ma finisce sempre a pizza, non ci capisci in cazzo, un attimo prima tutti a mangiare la torta, un attimo dopo la polizia e i carabinieri, raga, tutti che stavano a pizza e sottiano tutti a una certa. Una cosa mi ha ammannato un bestia, quelli che non sono gipsi li chiamano gorge. Aspetta un attimo che cazzo è, fatemi capi, vivete nel medioevo, dentro una scatola che erote, vi conciate peggio dei clown der mcdonald, andate in giro coi mini pony e noi siamo cosa? No, cioè raga, fatemi parlare con gli adori di realtime su.